in collaborazione con Gruppo Kramst Centro Cinofilo I Pioppi La Penisola Country Resort and Restaurant Tornano il 4 e 5 dicembre al Teatro Mancinelli di Orvieto con uno strepitoso spettacolo I Momix che sotto la direzione del geniale Moses Pendleton presentano in una data unica per l'Umbria Remix una vera e propria compilation degli spettacoli più significativi dei mitici ballerini illusionisti tra cui Momix Classics, Opus Cactus, Super Momix, Sunflower Moon e Botanica Conosciuti nel mondo intero per gli spettacoli di eccezionale inventiva e bellezza i Momix devono la loro fama in tutto il mondo per la capacità di evocare un mondo di immagini surreali facendo interagire corpi umani, costumi, attrezzi, musiche e giochi di luce L'appuntamento con i Momix è al Teatro Mancinelli di Orvieto per il 4 e 5 dicembre alle ore 21 prevendita presso il botteghino del Teatro